Ciao! Noi sono il team Umizoom! E indovina! Siamo qui per assistere a un concerto del nostro gruppo preferito! Sì! Tra un poco vedremo... Gli Orsi Cucu! Gli Orsi Cucu sono tre! Suonano degli strumenti, danzano e cantano! Io amo le loro canzoni! Sì, è un grillo! E tu raccontami un po'! Ti piacciono le canzoni? Incredibile! Hanno ridotto il puzzle! È uno squalo!